noel gallagher pensate che ha trascorso ben quattro anni di tempo finito giunto arrivato nel cosiddetto tunnel della cocaina un tunnel che a volte non riesce a trovare una via di uscita l'uomo era finito dentro senza se senza ma era direttamente finito in un tunnel senza uscita in un tunnel in cui non c'era via di uscita non c'era un briciolo di luce ma ecco che ce l'ha fatta uscirne fuori grazie ad un match sportivo tra il lussemburgo e un'altra squadra è riuscita a dire basta a quel mostro a quella droga che crea dipendenza e che fotte il cervello e la psiche quindi di un essere umano riuscendo a farci ora in maniera diretta concreta e compie piena ha smesso dunque di sniffare la coca il buon noel gallagher riformando se stesso e le sua vita ad una vita nuova rinnovata e piacevole grazie a tutti un saluto caro da reandro iscrivetevi al canale ciao